L'Arezzo ha accolto questo pomeriggio sul campo di Badialpino il difensore Alberto Barisona arrivato dal Bassano. Unico assente all'allenamento Paolo Grossi alle prese con un problema alla caviglia, mentre Alex Sirri, ieri in borghese alla seduta sul sintetico, non era presente. L'ex Alessandria Erma in procinto di accasarsi altrove a titolo definitivo. L'Arezzo prosegue quindi la preparazione con il programma di allenamento che a questo punto varierà dopo l'annullamento della partita con il Perugia in programma sabato alle 15 al città di Arezzo. Il direttore generale Riccioli nel comunicato stampa della società spiega che il passo indietro è dovuto alla mancanza di una risposta da parte dell'osservatorio in tempi utili per organizzare la vendita dei biglietti a Perugia. Carenze logistiche e organizzative che hanno portato a cancellare il test anche perché sia l'Arezzo che il club Umbro sono convinti, come si legge nel comunicato, che giocare senza spettatori o una parte di essi significa rassegnarsi a un'idea di calcio che non ci appartiene. Sul campo di Badialpino intanto Sottili ha incentrato la seduta sul lavoro tecnico-tattico. In particolare il vice di mister Sottili ha fatto svolgere un lavoro personalizzato agli esterni a Maranto. Tra questi anche Mattia Corradi che con l'arrivo di Cenetti in mediana potrebbe quindi essere schierato con maggiore frequenza sull'out di destra come già accaduto ai tempi dell'Albinoleffe. Nel pomeriggio di venerdì spazio ad un'altra seduta di allenamento alle 15 sempre a Badialpino. Nelle prossime ore l'Arezzo potrebbe anche annunciare novità per quanto riguarda il calendario degli impegni in riferimento alla giornata di sabato avendo cancellato l'amichevole con il Perugia.